Sì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E il verbo si fece carne e venne ad arrivare a Gesù a noi. Ave Maria, ti ringrazio il Signore per te, tu sei benedetta per le donne, e tenerebbe il frutto per te, tu sei benedetta per le donne. Preghiamo in fondo, Signore, la tua grazia nei nostri cuori, tu che per l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione, per la sua passione croce, donaci di giungere alla resurrezione. Per Cristo nostro Signore, amore. Glorie al Padre, il Dio e lo Spirito Santo. Come è la vita di Gesù, Signore, che sei benedetta per le donne, e tenerebbe il figlio, 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 e tenerebbe il figlio. Grazie, grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.